Ben trovati, ho ricevuto un messaggio da un telespettatore che voglio leggervi. Egregio direttore Giuseppe Vernaleone, sono Antonio della provincia di Lecce, sono un suo telespettatore. Attualmente mi trovo in Brasile per aprire un'impresa e sparire dalla nostra bella Italia macchiata dal sudiciume della politica. Anche qui in Brasile ho incontrato parecchi italiani con la mia stessa idea. Io preferisco pagare il dovuto equo altrove anziché ingrassare i porci, puntini puntini, in Italia. Possibilmente voglia comunicare di questo mio sms nelle sue trasmissioni. Distinti saluti Antonio. Sono tanti i messaggi come questi che mi giungono. Beh questa è la settimana europea dei rifiuti e credo che in Italia ce ne siano troppi di rifiuti. Tutti coloro che sino ad oggi hanno preso in giro noi italiani dicendo che la Seconda Repubblica sarebbe stata più equa e solidale, che la Seconda Repubblica sarebbe stata la Repubblica della moralità e del fare. Tutti questi signori a Roma, a Bari, a Lecce, a Taranto e a Brindisi, sono dei rifiuti. Allora se questa settimana europea dei rifiuti intesi come tutto ciò che noi andiamo a cestinare deve essere e deve segnare una considerazione maggiore per il nostro ambiente, noi rifiutiamoci di rivedere i rifiuti che sino ad oggi non hanno fatto nulla per il nostro territorio e per il nostro paese. Perché questo signore che mi scrive dal Brasile, che mi segue attraverso i video su YouTube e che se ne va dicendo che in altre parti si lavorano e si pagano le tasse ma non si viene mortificati e umiliati come nel paese in cui noi ancora continuiamo a vivere, probabilmente lo dice con una sofferenza nel cuore. D'altronde anche un ultimo dato del Confartigenato dice che 90.000 aziende artigianali in Italia nell'ultimo anno hanno chiuso, non lavorano più. Questa è la situazione. Intanto dobbiamo notare che cosa la corruzione, dobbiamo prendere atto del ladrocinio dei soldi pubblici dati ai partiti e agli esponenti che hanno sempre fatto del moralismo con noi, anzi su di noi e sulla nostra pelle. Questo aspetto dobbiamo rifiutarlo per poi cercare di ritrovare la via della democrazia attraverso le primarie. Primarie fatte in modo intelligente dal centrosinistra, al di là o meno se ci sarà la sorpresa del fantasma vendola. Fatte ma probabilmente non celebrate quando il centrodestra prenderà atto della ufficialità di marzo e le polemiche di Monti contro il nostro paese e poi in favore il mece della nostra Italia sono possibili soltanto perché il primo ministro attualmente in carica non eletto e non voluto dal popolo capisce delle difficoltà di un centrodestra incapace di rendere credibili delle primarie e di un centrosinistra che attraverso le primarie che porta avanti un regolamento dei conti ma perché si fa largo attraverso anche l'opera moralizzatrice di Montezemolo che apre la terza repubblica come se lui nella seconda e nella prima avesse vissuto su Marte e non è una critica ma è una riflessione, una riflessione sacrosanta perché la Bindi molte volte infastidisce con quel suo modo di parlare ma ha detto una cosa intelligente, Montezemolo è stato anche colui che doveva rappresentare l'Italia durante il governo Berlusconi ma Montezemolo è stato principalmente un uomo Fiat, un uomo di una azienda grande e importante che con la politica aveva grandi interessi e grazie alla politica non ha chiuso le fabbriche, anzi ha sfruttato troppe volte gli operai con i soldi anche degli impiegati statali e dei cittadini italiani. Bene, Monti porta avanti questa strategia politica perché ora c'è una lotta di potere, vedete un po' che vi sto dicendo, una lotta di potere per chi dovrà essere non solo il presidente del Consiglio ma anche il futuro presidente della Repubblica. Monti teme di non poter essere il protagonista del Monti Bis perché ci sarebbero alte sfere europee che pensano come nuovo inquilino del Quirinale al posto di Napolitano all'attuale presidente della Banca Centrale Europea, l'italiano Mario Draghi, per cui poter controllare ancor di più il nostro Paese dal punto di vista creditizio. Questo è il motivo per cui Monti non scioglierà riserva perché tenta lui di andare lì ma avendo saputo che probabilmente qualcun altro ha già scelto e poi la politica succube accetterà e voterà, cerca uno spazio, cerca alternative, cerca alleanze, cerca di sparigliare. A domani.